Cosmetica nasce tra la fusione di due brand. RWB che opera nel settore dell'estetica e Diego Dalla Palma sulla quale l'azienda sta investendo moltissimo. In Italia all'estero, negli ultimi anni abbiamo acquisito notevoli quote di mercato e siamo tra le prime nove aziende del mercato italiano. Il marchio si sta sviluppando con ottimi risultati, ad esempio nel mercato inglese, e ci stiamo rivolgendo a tutto il mercato asiatico. Da pochi anni abbiamo iniziato un nuovo progetto creando una linea di prodotti dedicata alla farmacia. Abbiamo dei nostri laboratori che sviluppano tutte le formule che mettiamo sul mercato. La peculiarità della nostra società è il management, un'età media al di sotto dei 30 anni, a prevalenza donne, dal marketing, al commerciale, alla ricerca. Sono Anna Mastropalo, responsabile dei laboratori di ricerca Diego Dalla Palma. Diego Dalla Palma è un'azienda cosmetica con una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti dermocosmetici, molto apprezzati dai nostri consumatori per la loro alta efficacia, supportata da rigorosi studi scientifici. Questa è la ragione per cui siamo diventati uno dei brand più famosi in Italia nella produzione di prodotti dermocosmetici venduti in più di 50 paesi al mondo. I punti di forza del nostro brand sono l'alta qualità dei nostri prodotti, l'innovazione e la creatività, perché noi pensiamo che la cosmetologia sia un ponte fra la scienza e l'arte. Alla base della nostra crescita c'è una ricerca scientifica avanzata e la profonda conoscenza della biologia cutanea e della fisiologia cutanea. Benvenuti nei laboratori di ricerca Diego Dalla Palma, il cuore pulsante della nostra azienda. Dove studiamo costantemente le nuove tecnologie cosmetiche per anticipare il futuro dello skin care. Gold Infusion, il tesoro di giovinezza arricchito con foglie di oro puro e la linea, altamente lussuosa e altamente efficace, composta da due preziosi prodotti studiati per restituire alla pelle forza e vitalità e ridonarle il prezioso splendore della giovinezza. Gold Infusion, pozione di giovinezza, siero di giovinezza e rivitalizzante. Un prodotto 100% d'origine naturale, creato dal perfetto bilanciamento di 28 preziosi oli naturali con foglie di oro puro, arricchite con un'alta concentrazione di retinolo. Rigenera la pelle e le regala un incarnato più uniforme, fresco e radioso. Gold Infusion, crema di giovinezza e rivitalizzante. Una crema gioiello creata dalla magica combinazione di 28 preziosi oli naturali, foglie di oro puro e adenosina microincapsulata. Un potente attivo ad azione anti-età. Ricostruisce l'architettura della pelle, riducendo la visibilità di rughe, disidratazione e perdita di elasticità. Pensiamo anche al futuro. Da qualche anno sono state per parte del management aziendale i miei due figli, che si divideranno i compiti nella gestione futura dell'azienda, garantendo la continuità di sviluppo della nostra società in Italia e all'estero. Grazie a tutti.